Nonostante l'estate i contagi sono ad un livello altissimo da Covid-19, allora i sanitari, in questo caso della ASL Toscana Sud-Est, ci spiegano l'importanza di effettuare la quarta dose che in questo momento è dedicata ad alcune particolari categorie. È importante vaccinarsi perché abbiamo un elevato numero di casi che chiaramente stanno colpendo la popolazione, ma nonostante il virus abbia una bassa aggressività è comunque importante proteggere le persone fragili e gli anziani da un alto rischio di complicanze. La vaccinazione è stata estesa agli over 60 e ai ragazzi dai 12 anni in su con elevata fragilità, due nuove fasce della popolazione che si aggiungono agli over 80 e agli ultra 60 anni fragili. Le aziende sanitarie, anche ovviamente la ASL Toscana Sud-Est, ha scelto sedi diverse rispetto agli hub vaccinali. Sì, allora questi ambulatori vengono organizzati, sono ambulatori aziendali del Dipartimento di Prevenzione e vengono organizzati dal personale del Dipartimento Tecnico Sanitario. Gli ambulatori a disposizione nella provincia Rederezzo sono cinque e sono qui a Ceciliano, Montevarchi, Camuscia, Bibbiena e Sansepolcro al distretto. Le prenotazioni possono essere fatte nel sito aziendale attraverso il sito della Regione Toscana, prenota vaccino e c'è anche un numero che è indibito all'assistenza, alla prenotazione per chi avesse difficoltà che è 843 25 25, numero che si può trovare anche nel sito aziendale. E qual è il tempo entro il quale è necessario fare appunto la quarta dose rispetto ad un'altra dose di vaccino piuttosto che all'infezione? L'importante è che siano superati 120 giorni, quindi 4 mesi, dalla terza dose del vaccino Covid o dall'avvenuto Covid e quindi dalla malattia. E questi sono i tempi previsti per la quarta dose del vaccino.